Bene bene bene, amici! A lei! A lei! Qua siamo nella Pork Valley praticamente all around the pork gira intorno a tutto al maiale e quindi se vi è piaciuto bene se non vi è piaciuto ciao che ti amavo! Bene, allora tutto a posto qui si quasi quasi l'acqua, ci siamo, ci siamo sì, ci siamo ci siamo e siamo qui per una nuova ricettina ricettina particolare non lo so neanche se chiamare la ricettina perché? perché oggi faremo un liquore quindi mettiamo sotto la scritta vietato i minori di 18 anni col bollino rosso un liquore fa male quindi un liquore ma perché questo liquore? perché a me piace non mi piace non bevo tanto tanto perché io anzi non bevo e quindi qui mi ha scritto ma potresti binare dei vini e io quei vini bevo un bicchiere e sono già lì che faccio la ola quindi e allora però ci sono delle volte a fine pranzo che certi liquori mi piacciono il rosoglio del nonno di famiglia quello sempre quello lì da piccolo andava alla caccia del tesoro per trovarlo quindi quello sempre anche se non mi piace però il liquore di famiglia il rosoglio sì e poi quando si va a mangiare il limoncello il limoncello e il nocino e un altro che invece piace molto anche se però lo bevo poco poi lavorare da me un mio amico ah ma tu che quel liquore non hai che pronti facciamo il liquore di liquirizia mi sono fatto dare due o tre consigli e quindi oggi faremo il liquore di liquirizia quindi il procedimento diciamo casalingo quello che è più semplice da fare che tutti possiamo fare e quindi direi di incominciare perché le chiacchiere oramai sono esaurite e semplici prodotti quindi incominciamo con gli ingredienti gli ingredienti per il mio liquore di liquirizia sono 800 millilitri d'acqua 450 grammi di zucchero 140 grammi di liquirizia e 300 millilitri di alcol puro a 96 gradi quindi questi sono gli ingredienti chiamiamo tutto qui l'acqua l'acqua non è l'acqua del rubinetto ma bisogna trovare un'acqua con il più basso residuo fisso di calcio diciamo residuo fisso dei sali perché più c'è residuo fisso poi dopo verrebbe diciamo opaco verrebbe quindi ci vuole di solito le distillerie anzi le distillerie le liquorerie usano l'acqua distillata ma non è l'acqua distillata del ferro da stiro mi raccomando quella è un'altra cosa è l'acqua dove vengono eliminati diciamo tutti i sali che contengono l'acqua per dirla breve l'acqua piovana sarebbe l'ideale ma in questo caso troviamo delle acque dove il residuo fisso è mostrato basso lo possiamo capire anche vedendo diciamo dove c'è il simbolino del bambino perché lì nel simbolino del bambino diciamo il residuo fisso è importante per la dieta però noi andiamo a vedere nell'etichetta diciamo andiamo a vedere nell'etichetta dove c'è scritto residuo fisso quando vediamo quello più basso che ho trovato è sui 0,20 22 mg più bassa è meglio è ma qui mi dite eh vabbè ma il liquore è scuro quindi allora fate come vi pare ciao che ti amavo ecco io direi di incominciare che andiamo di là e incominciamo a fare tutto il nostro lombaradan vamos eccoci adesso incominciamo a fare il nostro liquore quindi accendiamo il fornello e incominciamo a mettere dentro la nostra acqua e incominciamo a scaldare la nostra acqua adesso che l'acqua vedete incomincia a fare le bollicine incominciamo a mettere pian piano dentro il nostro il nostro zucchero semolato più sale la temperatura più lo zucchero tende a sciogliersi non deve non deve bollire non deve bollire l'acqua se no caramè dopo tende a bruciarsi lo zucchero a questo punto che lo zucchero si è sciolto vedete che incomincia a diventare di nuovo trasparente aggiungiamo la nostra liquirizia vedete la liquirizia sono quelle che compriamo che troviamo nei bar che troviamo è una liquirizia pura qui dobbiamo continuare a rimescolare fino a quando non si scioglie tutta se no tende ad attaccarsi sta venendo su tutto un profumino di liquirizia mentata facciamo l'aerosol facciamo un fumento vedete continuare a rimescolare se no tende ad attaccarsi adesso continuiamo a rimescolare a fuoco passo continuiamo così per un quarto d'ora circa poi lo capiamo quando la liquirizia è sciolta tutta ci vediamo dopo intanto rimescolo ecco ci è voluto quasi 20 minuti mezz'oretta sempre a rimescolare poi magari a volte è anche un po' energico in modo che si agitano tutto si agita il liquido e quindi tende a far sciogliere la liquirizia poi non c'è nessunissimo problema perché adesso lo andremo a passare in un colino quindi le parti di liquirizia che non si sono sciolte rimarranno lì dentro e poi le tiriamo via e poi le lasceremo riposare freddare dopodichè andiamo avanti con la ricetta quindi adesso lo facciamo passare da un colino ecco qua abbiamo già il nostro contenitore e versiamo il nostro contenuto ecco vedete vedete queste tutte le liquirizie un po' rimasta adesso questo lo lasciamo riposare e quando è freddo tiepido e andiamo ad aggiungere pian piano il nostro alcol alcol puro a 96 gradi a dopo eccoci qua per l'ultima fase abbiamo il nostro sciroppo di liquirizia qui vedete che è freddo ora ci andiamo ad aggiungere il nostro alcol puro a 96 gradi come avevo detto il peso specifico è diverso da quello dell'acqua se diciamo 100 millilitri d'acqua è un etto di acqua se diciamo in vetre invece 100 millilitri di alcol puro sono 79 grammi quindi è diverso quindi a questo punto facciamo la moltiplicazione quindi 237 ho fatto il calcolo prima quindi andiamo a mettere 300 millilitri di alcol puro quindi 237 grammi ecco fatto 237 238 va bene sarà un pochino più e andiamo a mettere il nostro alcol dentro vedete piano piano cominciamo a rimescolare aggiungiamo dell'altro alcol adesso il nostro liquore deve stare a riposare però se ci sta di più meglio è quindi lo mettiamo dentro uno bottiglione lo incliniamo un po' in modo da non sbrodolare ecco qua il nostro bottiglione viene quasi un litro e mezzo di liquore quindi tra bottiglie da mezzo litro ci vengono tranquillamente poi se volete fare un regalo natale se volete fare un pensiero insomma questo è sempre ben gradito se uno piace il liquore avete trovato qua il liquore giusto e a questo punto io vi faccio vedere la mia bottiglia la mia bottiglia la mia bottiglia che si chiama la sumiclesia et sans van sumiclesia che cosa vuol dire sumiclesia è in dialetto bolognese la liquirissia e quindi io ho pensato di chiamarlo così potrei anche registrare il nome potrebbe essere carino quindi il liquore sumiclesia vuoi un po' di sumiclesia vuote un po' che sumiclesia pronta cosa è la liquirissia eccola qua volete fare un liquore a casa questo è e bom questo è il liquore se volete vi ricordo sempre di bere con moderazione che se no il fossi come diceva mio padre dopo va a finire che quando uno guida gli alberi e i palletti hanno le gambe e invece poi le gambe non è che li hanno i palletti è che quando hai capito quindi se vi è piaciuto qui trovate tutti i miei indirizzi youtube facebook dove trovare tutto e guardare anche altre ricette quindi potete fare un primo non lo so una gramignola salsiccia un secondo delle 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 scalopine al cedro balsamico poi dopo il dolce torta di riso e per finire sumiclesia vamo la e per questo è tutto io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata e se vi è piaciuto bene se no ciao che ti amavo ciaoone vamo la la sumiclesia bene 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 amici a lei a lei a lei e quindi se vi è piaciuto bene se non vi è piaciuto ciao che ti amavo ciao